La seconda partita che si è conclusa nella seconda giornata della seconda fase qui al Derby Sports è stato Cassavia Team Print Farm Dopo un inizio sicuramente rovinoso del Cassavia eravate addirittura arrivati quasi sotto il 2-0 la Print Farm sbaglia il rigore, rinasce il Cassavia Risultato finale 5-3 guidata da un fenomenale mezzanzanica Manuel giudicato migliore in campo Come ci si sente ad essere migliori in campo alla prima apparizione assoluta qui al Derby? Nel metodo della squadra, più a meno, senza di loro non facevo niente Si va avanti adesso nell'Europa League con il Cassavia già voci di corridoio dicono che se sostituirai Giacomo Buracchi ci sono possibilità per il Cassavia di fare bene Si, 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 tante anche ma in tribuna direttamente io metterei Giacomo Buracchi perché è scherzo Vincenziato! Vincenziato! Buon in osa! Speriamo quindi di rivedere mezzanzanica qui a stelle dell'Europa League e un augurio di buone partite al Cassavia Pese troppo pesanti, non posso superare Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!